Dalla raccolta agli angoli degli occhi, in un carcere ammazzano un uomo. L'arco s'apre rotondo, lampade a coppie aeree sbarigli, avanza un uomo dal fondo, colonne reggono l'arco, passa guardiano sbarigli, prende il suo posto di un'ora, colonne reggono travi, salza e cammina, silenzio, conta le lampade passando, pesta le colonne con forza, misura l'arco uscendo, in un carcere ammazzano un uomo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.